Buonasera, sono Ellen Shelley. Qualcuno di voi mi avrà sentita nominare. Qualcun altro forse no. Non sono graziosi. Levali da qui. Buon compleanno, piccolo mio. Signora, lei è caduto il portamonete. Tanto è vuoto. Sei Ellen Shelley. Non avevo mai conosciuto una star nel cinema. Il funerale sarà il 10 di luglio alla Flotte. Il De Re, Francia. Non posso andare da solo, no? Non posso venire in Francia. Ci saranno tutti. Sarà come la notte degli Oscar. Io e te potremmo vivere un'avventura. Qualsiasi cosa accada, tu continua a camminare. Signora. Non ho idea di chi sia, però ha un viso conosciuto. Mi sento di nuovo un adolescente. La terza età ha anche i suoi lati positivi. Mi accompagna in camera. In Francia? Ma ti sei rimbabbita? No. Ti fai trattare male per un pacco di biscotti. Dimmi com'è morto tuo figlio. È importante tirare avanti, dico bene? Non ho fatto tutta questa strada per tirare avanti. E tanto meno tu. Nella vita. Voglio godermi la vita che mi resta. E anch'io. E io voglio reinventarmi. Risorgerò dalle ceneri. Ci serve aiuto. Credo che sia finita la benzina. Rimani con me. Gli uomini francesi sono romantici. Sono italiano. Ancora meglio. Non è mai troppo tardi. Lei è Ellen Shelley. Non è cambiata affatto. Salute. Per ricominciare. Sono troppo vecchia per queste cose. Non si è mai vecchia. La vincitrice del Golden Globe, Joan Collins. La candidata all'Oscar, Pauline Collins. Io voglio avere un'altra occasione in questa vita. Amiche all'improvviso. Allora, sua moglie è morta o è andata a fare shopping? Dal 19 settembre in DVD e digital download. Allora, sua moglie è morta o è andata a fare shopping?